Contro l'exemmia pugilistica trivese, del Vato Nicola Il match si disputerà sulla distanza delle tre riprese da tre minuti ciascuno Trente e due, mi correggono tre e tre minuti ai per sessi La fatina gibto tutti l'ample Aijo Aijo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Fuori i secondi. E' la seconda ripresa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.